Il meglio dell'arte, dell'artigianato e del cibo da strada in un evento che punta a riportare in vita un antico borgo. Torna per il secondo anno a Carrodano Arte nel Borgo, la Kermess organizzata da Karma Sport, Proloco Comune e che quest'anno si arricchisce di vino d'autore, una selezione di vini regionali e locali di qualità da gustare con i prodotti del territorio in un percorso enogastronomico e artistico tra cantine e piazzette del centro storico. Molte decine gli artigiani e gli artisti presenti poi sin dal mattino alle 10 con mostre di scultura, pittura, fotografia e alcuni happening dedicati alla poesia. Una parte importante dell'esposizione sarà dedicata all'artigianato locale, dagli antichi mestieri a quelli nuovi e riscoperti che hanno saputo fare di necessità virtù. Nella prima parte della giornata dalle 10 alle 18 è stemporanea di pittura con dimostrazioni di scultura e di aerosol art. Ad essere esposte anche le poesie che saranno premiate alle ore 18 insieme ai migliori fotografi e pittori. La serata è dedicata invece ad un'altra arte, quella musicale. Dalle ore 19 il concerto jazz del Carrodano Art Quartet. Per finire dalle ore 23 il party nel Borgo e il DJ set.